Con Lecce era importante vincere, abbiamo vinto e vinto bene, ora però bisogna pensare al Catania. Mister Stroppa è stato chiarissimo domenica nel post partita, invitando tutti a voltare pagina, archiviare il superbo 3-0 sulla squadra di Padalino e guardare avanti ad una partita che non potrà che essere difficile su un campo spesso ostico per i rossoneri contro una squadra che non attraverso un buon momento causa anche la confusione generatasi per i troppi e frettolosi avvicendamenti in panchina decisi dal DG Pietro Lomonaco e che proviene da tre sconfitte consecutive in casa con il Melfi, poi a Lecce e Pagani che l'hanno allontanata dalla zona pre-off. Il Foggia riprende oggi a lavorare con il morale alto e autostima al settimo cielo per un primato da sballo e 4 punti di vantaggio, 5 per via della migliore classifica pulsa diretta rispetto ai giallorossi salentini, ma anche la piena e profonda consapevolezza che la strada per la bidiretta resta complicata e difficile, pur se obiettivamente in leggera se non leggerissima discesa. Grazie. 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 Grazie.